Sì, diciamo che sono stati già due giorni abbastanza intensi dove abbiamo provato le cose che vuole il mister. Con il gruppo mi sono inserito subito bene perché sono tutti alla mano, tutti bravi ragazzi e mi hanno accolto benissimo. Ma chi conoscevo bene c'è Riccardo Marchizza perché ho giocato con me l'anno scorso ad Avellino. E poi conoscevo un po' meno rispetto a Riccardo Mario Sampirisi perché è delle mie zone. Sì, diciamo che nell'ultimo anno mi sono ripreso da un infortunio lungo che mi aveva portato a entrare in un calvario dove non riuscivo più ad uscirne. L'anno scorso ho fatto una buona annata a livello di numeri e a livello anche di prestazioni e adesso ho solo voglia di incominciare per fare ancora meglio rispetto all'anno scorso. A livello fisico mi sento abbastanza bene, non ho partite nelle gambe quindi non ti so dire quanto reggo in una partita. Però posso dire che negli allenamenti mi trovo bene perché a Bergamo mi sono allenato intensamente e ancora prima di iniziare a Bergamo da solo con un preparatore mi stavo già allenando. Ma dalla mia esperienza porto tanta voglia di fare, tanta intensità, tanto entusiasmo perché penso sia la chiave principale per far bene. Poi tutto il resto c'è un grandissimo mister che ci pensa lui, io di mio porto solo tanta voglia e tanto entusiasmo. Ma perché sto aspettando una piazza ambiziosa, perché sono un ragazzo ambizioso, voglio vincere e quindi cosa potrei trovare di meglio se non crotone.